Problemi legati alla manutenzione e all'assenza delle lavagne, quanto sottolinea il dirigente scolastico della scuola fiorentino Dario Palo, che ha lamentato una serie di problematiche riscontrate nelle scuole presso le quali gli alunni sono stati spostati dopo l'ufficialità dell'inagibilità degli istituti di Via Pascoli e di Via De Gasperi, criticità alle quali ha replicato la sindaca. D'essa sinceramente meraviglia e perplessità la nota del dirigente scolastico, spiega Cecilia Francese, che quotidianamente viene messo a conoscenza dei progressi fatti e delle cose in cantiere, in continua sinergia con i dirigenti del comune e con gli assessori. Non capiamo pertanto questa polemica, che peraltro si offre a facili strumentalizzazioni, al di là della volontà del dirigente scolastico. Sapevamo che qualche problema e qualche difficoltà l'avremmo trovati, proprio per questo, come detto, la scelta della massima condivisione con l'obiettivo di affrontare e risolvere insieme i problemi. Solo otto lavagne interattive multimediali non sono state montate per motivi infrastrutturali per la presenza di pareti in cartongesso. Circa 25 lim, invece, sono già regolarmente installate nelle rispettive aule.